Al Viala rassegna un mare di opportunità sabato 13 e domenica 14 maggio, due giorni dedicati alla disciplina velistica. Dalle 10 fino alle 16 presso la spiaggia delle Monache, grazie all'associazione Napoli Surfski, sarà possibile avvicinarsi gratuitamente alla pratica del kayak. Nella due giorni dedicata alla canoa sarà ufficialmente battezzata la spiaggia delle Monache che deve il nome alla vicinanza ad un ex convento. La spiaggia sarà resa fruibile a tutti gli abitanti mediante un'apposita segnaletica, mentre l'accesso è stato agevolato dalla diacente Lido Sirena che ha realizzato a proprie spese un camminamento che consentirà di raggiungerla più facilmente. Sarà presente l'assessore con delega al mare Daniela Villani che ha ideato la rassegna che rientra in un più ampio progetto di valorizzazione della nostra costa. Effettueremo, come abbiamo detto, la pulizia ogni giorno e tenteremo di prendercene cura tutti insieme, insieme alle associazioni che continueranno ad offrire attività gratuite, insieme alla cittadinanza e presto metteremo anche dei cestini appunto per rendere ancora più decorosa la spiaggia delle monache.